Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. La cronaca in primo piano partendo da Pachino, siamo quindi nel Siracusano dove un giovane bracciante agricolo è stato tratto in arresto dai carabinieri per detenzione di armi, munizioni e sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Pachino hanno tratto in arresto un bracciante agricolo di 25 anni per possesso ingiustificato di armi e munizioni e detenzione di stupefacenti. I militari, entrati nell'abitazione dell'uomo per la verifica di un allaccio abusivo alla rete elettrica, hanno esteso il controllo a un fienile dal quale si notava un vistoso cavo elettrico. Il giovane, intuita l'intenzione dei carabinieri, furtivamente è entrato nel fienile da un accesso sul retro e ha occultato uno zaino oltre alle balle di fieno. L'azione però è stata notata dai carabinieri che all'interno della sacca hanno rinvenuto due pistole con matricola a brasa, munizioni e oltre 600 grammi di marijuana. Il 25enne è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dalla Siracusano al Ragusano, da Pachino a Comiso, continuiamo a parlare di cronaca e nello specifico dell'arresto di due stranieri, due tunisini, accusati di rapina e lesioni aggravate. I due sono stati tratti in arresto dagli agenti della Polizia di Stato e sono finiti in carcere. Tutti i dettagli nel servizio. La Polizia di Stato di Comiso ha eseguito due misure di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di due stranieri residenti da tempo a Comiso, autori di una rapina in danno di un ignaro cittadino e subito dopo di un'aggressione con spranghe e mazze a danno di un'altra persona. La notte del 26 novembre scorso è giunta la richiesta di soccorso di due persone per aggressione. La volante intervenuta ha constatato la presenza di due uomini feriti. Uno ha raccontato di essere stato preso a sprangate e poi rapinato del cellulare mentre rientrava presso la propria abitazione da due soggetti che successivamente si sono recati verso l'abitazione dell'altra persona ferita danneggiando con spranghe di ferro la porta d'ingresso. Le modalità violente dei due episodi hanno indirizzato i poliziotti sulle tracce di un uomo il quale in estate era stato autore di un'aggressione in danno dello stesso proprietario della casa danneggiata e per avere aizzato in pieno centro con Misano il proprio cane contro un anziano signore che nell'occasione aveva riportato gravi lesioni. Tali elementi indiziari, corroborati da elementi oggettivi quali le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati hanno consentito agli agenti di individuare e identificare i soggetti responsabili dei reati commessi. Il quadro inquisitorio ricostruito è stato pienamente condiviso dalla Procura della Repubblica di Ragusa che ha chiesto al GIP l'adozione di idonee misure restrittive finalizzate a scongiurare il pericolo della commissione di altri reati contro la persona anche in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dagli aggressori. I due uomini, un 36enne e un 30enne, entrambi tunisini, sono stati pertanto associati alla casa circondariale di Ragusa. Ancora sangue sulle strade siciliane, ancora un tragico incidente. Restiamo nel Ragusano, entriamo nei dettagli. La vittima è un giovanissimo, una 14enne, il quale è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri a Pozzallo. Come detto, siamo in provincia di Ragusa. Il ragazzo era alla guida di uno scooter che in Via Australia si è scontrato con un'auto. L'impatto purtroppo è stato per lui fatale. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Modica per effettuare tutti i rilievi e le indagini del caso. I militari dell'arma stanno anche verificando l'eventuale presenza nella zona di sistemi di videosorveglianza che possano aver ripreso scene utili per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, la dinamica di questo tragico incidente mortale. Nel frattempo la procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Lasciamo il ragusano. Adesso una notizia dall'agrigentino, per la precisione da Sciacca. Un 21enne di Ribera, ma residente proprio a Sciacca, è stato denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di violenza sessuale su persona in condizione di inferiorità psichica. Il giovane, infatti, avrebbe indotto una 22enne disabile del posto, disabile intellettiva, a inviargli delle foto delle sue parti intime in una chat privata sui social. La mamma della ragazza, una volta scoperto il fatto, si è rivolta ai carabinieri della stazione di Sciacca per formalizzare una denuncia con i militari dell'arma che, dopo aver acquisito le conversazioni della chat e ovviamente anche le fotografie incriminate, hanno deferito, come detto, il 21enne. Torniamo adesso a occuparci del doppio omicidio avvenuto in Inghilterra. l'assassinio di due giovani siciliani ed è ancora avvolto nel mistero questo duplice omicidio. I due ragazzi originari della provincia di Messina, Nino Calabrò di Barcellona Pozzo di Gotto e Francesca Di Dio di Montagna Reale, i quali sono stati trovati morti in Inghilterra nell'appartamento in cui vivevano. Il ragazzo era lì per motivi di lavoro, mentre la ragazza lo aveva raggiunto da poco per trascorrere insieme a lui le vacanze di Natale. A chiamare la polizia sono stati alcuni amici dei due ragazzi che si erano insospettiti poiché nessuno dei due rispondeva al telefono. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, la polizia avrebbe fermato un ex coinquilino di Nino Calabrò, si tratterebbe di un giovane che avrebbe origini siciliane. Mentre ieri era stato interrogato un altro coinquilino di Nino, un iraniano in questo caso. Ovviamente vi terremo informati, vi terremo aggiornati su questo grave fatto di cronaca che arriva dall'Inghilterra. Se ci saranno degli aggiornamenti, ve li daremo nel corso delle prossime edizioni di Spazio Notizia. Notizia adesso dal Palermitano, per la precisione da Termini Imerese continuiamo a parlare di cronaca e nello specifico di furti in abitazione e all'interno di esercizi commerciali con il responsabile, il presunto ladro, che è finito agli arresti domiciliari. La polizia ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo ritenuto autore di numerosi furti in danno di esercizi commerciali. L'uomo, già indagato poiché presunto responsabile della commissione di quattro episodi di furto, era stato sottoposto alla misura cautelare che ne disponeva l'obbligo di dimora a Termini Imerese con le prescrizioni di non uscire dalla propria abitazione in determinati orari della giornata. Tuttavia, a conclusione di una serrata attività di indagine che fa luce su un furto in abitazione avvenuto lo scorso 24 ottobre nel comune Imerese, l'ufficio GIP del Tribunale di Termini ha disposto un aggravamento della misura. Le indagini sull'episodio hanno permesso di ottenere importanti riscontri investigativi in ordine alla presunta responsabilità dell'odierno indagato, il quale, danneggiando l'infisso di una finestra, si sarebbe introdotto all'interno dell'edificio rubando diversi oggetti. Durante l'esecuzione del provvedimento e a seguito di perquisizione locale, i poliziotti hanno rinvenuto una parte del bottino ottenuto dal furto in abitazione che è stato posto sotto sequestro in attesa di restituzione all'avente diritto. Ci spostiamo adesso a Catania per parlare di spaccio di sostanze stupefacenti con i carabinieri che hanno tratto in arresto un pusher di 25 anni. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato in flagranza un catanese di 25 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A riguardo i militari dell'arma, nell'ambito dell'azione di contrasto al fenomeno dello smercio di droga disposta dal comando provinciale carabinieri di Catania, a seguito di una mirata, attività e info investigativa, hanno avviato il monitoraggio dei movimenti del giovane, recandosi presso la sua abitazione di Viale Moncada con l'intento di effettuare una perquisizione. Nella circostanza, sin da subito, gli operanti hanno notato il forte stato di agitazione del ragazzo probabilmente dovuto al fatto che in casa fosse nascosto qualcosa di illecito. E in effetti, all'esito delle ricerche, i carabinieri hanno trovato in una borsa termica riposta nella sua camera da letto diverse tipologie di sostanze stupefacenti nonché un vero e proprio kit dello spacciatore. In particolare, infatti, sono stati recuperati circa 165 grammi di marijuana, in parte già suddivisi in 31 dosi, un barattolo con circa 16 grammi di crack, una bustina di plastica con circa 10 grammi di cocaina, nonché due bilancini di precisione, quattro radio ricetrasmittenti per le comunicazioni vedette pusher e soprattutto un prezziario della droga. Proprio quest'ultimo manoscritto ha destato la curiosità dei militari poiché con dovizia di particolari era ben specificato il singolo costo della droga in base al peso, oltre che una sorta di offerta promozionale per gli assuntori. Il 25enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto disponendo per lui i domiciliari. Parliamo adesso di Covid. Andiamo a vedere i dati del consueto bollettino settimanale diramato dalla regione siciliana. Nell'isola sono in lieve calo i nuovi contagi mentre resta stabile la curva delle ospedalizzazioni, dei ricoveri. Ma vediamo tutti i dettagli nel bollettino. Nella settimana dal 12 al 18 dicembre si assiste a un lieve decremento delle nuove infezioni da Covid in Sicilia con 11.246 nuovi positivi. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Messina. Le fasce di età più a rischio sono quelle tra i 70 e i 79 anni, gli over 90 e tra gli 80 e gli 89 anni. La curva delle nuove ospedalizzazioni è stabile e nella settimana di riferimento più di metà dei pazienti in ospedale risulta non vaccinata. I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 14 al 20 dicembre. Nella fascia d'età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 24,40% del target regionale. Il 20,98%, pari a 64.667 bambini, ha completato il ciclo primario di vaccinazione. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,90%, mentre ha completato il ciclo primario l'89,55% del target. I vaccinati con terza dose, invece, sono 2.771.436, pari al 72,39% degli aventi diritto. Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la somministrazione della quarta dose su richiesta dell'interessato a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni. Sono state effettuate, in poco meno di 10 mesi, 213.752 somministrazioni di quarta dose, di cui 188.851 a over 60. Sempre da fine settembre è stato autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la quinta dose ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria. Dal 17 ottobre, infine, è consentita la somministrazione della quinta dose con vaccino bivalente anche agli over 80, agli ospiti in RSA e alle persone over 60 con fragilità. Le quinte dosi finora somministrate sono 5.815. Parliamo di terremoti perché continua a tremare la terra in Sicilia e dopo le scosse degli ultimi giorni e anche nelle scorse settimane se ne è registrata un'altra, un sisma, stavolta, di magnitudo 2.1 che è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma alle 6.18 di questa mattina nel territorio di Militello in Val di Catania a una profondità di 9 chilometri. E dunque, come detto, l'ennesima scossa di terremoto in Sicilia in questo 2022, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, dei sisma nel Messinese ma anche in altre zone della Sicilia. Parliamo adesso dell'Etna che continua a dare spettacolo, la piccola colata lavica dell'Etna che è iniziata nella notte tra il 27 e il 28 novembre scorsi ha tracimato la Valle del Leone dove si sono aperte le bocche fusive che la generano per poi dirigersi verso la Valle del Bove raggiungendo un chilometro di lunghezza e una quota minima di circa 2.600 metri sul mare. E quantome emerge dalle osservazioni effettuate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo di Catania. L'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa è confinata nella zona sommitale e non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Ci fermiamo qui per il momento è tutto ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Grazie a tutti.